Anticipazioni Il Segreto, martedì 21 aprile 2020. Ignacio alla casona è visibilmente preoccupato. Rosa e Marta invece sono ancora molto provate a causa della terribile esperienza che hanno vissuto. Il viaggio a Bilbao è ormai sfumato. Manuela accoglie tutta la famiglia con gioia cercando di risollevare gli animi. Carolina chiede di Adolfo e entrambi lodano il suo comportamento sebbene riconoscano che è un furfante e nonostante questo anche il figlio della Marchesa. Pablo e Carolina intanto passano insieme dei momenti dolcissimi. La ragazza è distrutta perché presto dovrà separarsi da lui visto che partirà per il servizio militare. Pablo purtroppo non se la sente di tradire Don Ignacio ovvero colui che l'ha cresciuto rivelandogli di avere una relazione segreta con Carolina la terso genita dell'uomo. La giovane però non è affatto d'accordo e crede che il papà debba essere messo al corrente di tutto. Pablo si arrabbia. Alicia intanto la figlia di Urrutia scopre che i solo Zabal compreso suo padre sono salvi. Pertanto tira un sospiro di sollievo e quando rivede il genitore gli rimprovera l'assoluta dedizione a Don Ignacio a rischio di mettere a repentaglio la sua stessa vita. Ignacio intanto invita Pablo a non legare con i figli della Marchesa in quanto quest'ultima è molto pericolosa. Passando per la locanda Raimundo nota Marcella e Thomas in atteggiamenti intimi. L'uomo poi afferma di essere in cerca di sua moglie che non vede da tanto tempo ormai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.